Musica Amici sportivi, amanti della televisione Punto Sport, questa sera ci faremo anche gli auguri di buona Pasqua, di buon Natale, naturalmente buon anno, questa volta ho avuto la decisione vincente perché ho tenuto l'ospite per chiudere questa annata che forse era da fare già dall'inizio ma che nessuno prevedeva fosse così importante perché ieri si è chiuso il campionato del mondo di Formula 1 e qui noi abbiamo la fortuna, adesso passiamo la telecamera su di lui che si presenta, abbiamo la fortuna di avere la Formula 1 qui a RTA, vai. Buonasera a tutti, sono Corrado, tanti mi conoscono e sono qua a vostra disposizione, se avete domande su quello che è successo, su quello che succederà Tante ce le sono Sono qua a vostra disposizione, è un piacere essere qua con voi Ecco, tu naturalmente sei Alfa Tauri per cui giusto voi avete conquistato un ottimo successo ma lì ci arriveremo, la gente per quei pochi che non sanno chi è Corrado naturalmente vogliamo dire la tua partenza e qual è il tuo ruolo attuale all'interno di questa Alfa Tauri che quest'anno è andata splendidamente bene Quindi partiamo solo diciamo il tratto all'interno di Alfa Tauri e prima Toro Rosso Al di là che sono 30 anni faccio questo mestiere, cominciato nel 90, sono entrato dopo due anni in America, sono entrato con l'Alfa Tauri, allora Toro Rosso diciamo, nel 2007 Le mansioni nell'arco degli anni sono state diverse, sono entrato come capo meccanico squadra test per alcuni anni Dopo voto la squadra test sono state diciamo eliminate perché a livello di regolamento e quant'altro Così sono passato, siccome che l'avvio avrei dovuto passare in gara ma diciamo che il discorso gara era momentaneamente occupato da altri Allora ho fatto due anni di head of quality control, controllo qualità, prima solo la parte di compositi, cosa che ho sempre seguito molto nella mia carriera E poi diciamo tutto, tutto il reparto completo Allorché è arrivato il momento con l'ingegnere Scanelli mi ha voluto che tornassi in gara, sono andato in gara come capo meccanico in pista Responsabile ovviamente del box, dei ragazzi, del pistop e quant'altro Fino al 2014 Al 2014 per questioni personali di famiglia e per altre decisioni abbiamo deciso di come un accordo con l'azienda di fermarmi e non viaggiare più Allora l'azienda mi ha offerto il posto perché non voleva lasciarmi andare a tutti i costi Mi ha offerto il posto di capo meccanico in R&D che è ricerca e sviluppo E da allora sono lì Diciamo che per chiarire che cosa faccio nello specifico attualmente in ricerca e sviluppo Diciamo che l'argomento è molto vasto Però cercherò di riassumere Praticamente il nostro reparto si occupa Noi iniziamo a lavorare sulla macchina dell'anno che viene, l'anno dopo Diciamo da settembre, ottobre in poi Quando il campionato è ancora in atto E incominciamo a lavorare su tutto Appena vengono esposti le prime bozze dei regolamenti dell'anno che viene E noi incominciamo già a lavorare, gli ingegneri incominciano di ricerca e sviluppo Incominciano a lavorare su questo fronte Io mi occupo praticamente di tutto ciò che riguarda l'omologazione vera e propria del telaio Della macchina e questo implica ovviamente prove statiche Che si chiamano squise, tutto nella zona della cella di sopravvivenza Diciamo, della scocca, chiamiamola come volete, come preferite E i crash test dinamici che vengono effettuati a noi In particolar modo per comodità come fa Ferrari, Dallara, Aas e altri E Sauber anche Andiamo al CSI a Milano che è un centro sperimentale italiano Dove si omologano anche parti normali della macchina Come seggiolini per i bambini Loro sono certificati per omologare particolari automotive Volanti, qualsiasi guardrail Anche a livello di qualsiasi cosa che implichi dinamica o temperatura o quant'altro Diciamo che il lavoro grosso in inverno è questo Seguiamo, io mi occupo di tutti gli assiemi Ovviamente che disegnano anche gli ingegneri Io mi occupo di assemblare tutti questi assieme Per poi fare le prove vere e proprie sul telaio Che sono attualmente circa 14 test fondamentali Che vengono eseguiti sul telaio E vengono seguiti in prima persona dalla federazione Che manda un delegato nella nostra azienda Nei banchi, sui banchi Ma del resto nulla di nuovo Chi già conosce come Dallara Come fa del resto Dallara Le prove statiche si possono fare in azienda Bisogna attrezzarsi Ovviamente il laboratorio è notevole E si fanno tutti questi carichi Praticamente sono delle spinte statiche In zone ben stabilite Intorno alla macchina E ovviamente il telaio deve supportare questi test E non devono esserci danni Io cerco di farla un po' breve Perché la cosa è abbastanza complessa Però vengono eseguite delle spinte sul roll-up Il primario è quello che è dietro la testa Vengono fatte due spinte sull'alo Che adesso è il roll-up secondario davanti Vengono fatte delle spinte nella zona vitale del pilota Fate delle spinte nelle zone serbatoio Due sotto Uno davanti nella zona delle ginocchia Dove vengono attaccati i cavi delle sospensioni Push-off del muso I SIS Che sono i side impact structure Che sono i due tubi che si vedono Intravedono ogni tanto Quando nella macchina lateralmente Ci sono due tubi in carbonio Una volta si faceva un crash laterale dinamico Invece adesso abbiamo omologato i tubi Tutte le macchine hanno questi tubi omologati Però lì si portano delle spinte E devo dire notevoli Quest'anno sono stati aggiunti due test in più Anche a causa del, purtroppo, del decesso di un pilota L'anno scorso a Spa, Hubert Allora hanno deciso di incrementare Di irrobustire ancora di più le strutture Io faccio una conversione per farmi capire meglio Perché diciamo che le espressioni O i numeri che si usano sono newton E il newton non è che sia così usato per noi Io faccio i conti Diciamo la spinta più pesante Che facciamo sul telaio di riferimento Che è il primo telaio che si porta all'omologazione Quel telaio subisce tutti i test Tutti i 14 test E subisce anche i test dinamici Che si fanno a Milano Mentre invece gli altri telai di uguale manifattura Subiscono solo alcuni test di spinta Non fanno i dinamici Diciamo i carichi maggiori Che vengono applicati alla scocca Per dare un'idea Parliamo in quintali Che il quintale è un'unità di misura sicuramente più conosciuta Sono veramente alti e impressionanti Perché noi con un pad Con un tappo di diametro di 200-20 cm Nella zona polmonare laterale del pilota Al momento spingiamo 300 quintali Praticamente come se appoggiassi un camion Un carico sul fianco della scocca E questa deve tenere Teniamo il carico Quella prova in particolare Ma come questa anche altre Viene tenuto il carico per 30 secondi Viene messo all'interno della scocca Un potenziometro che dà Il massimo schiacciamento Che subisce la macchina E poi si rilascia il carico Si ha 3 minuti per raggiungere il carico Noi lo facciamo manualmente Con dei pistoni idraulici E poi si ha un minuto per aspettare Che la struttura si rilassi O ritorni una volta scaricato Per leggere il residuo In gran parte di questi test Il residuo è 0.5 Cioè 5 decimi di millimetro Se non si passa la prova Fanno o ripetere la prova Però se non ritorna dove era Diciamo che la struttura ha subito Una deformazione permanente Questo vuol dire che il test è fallito Come più drasticamente può esplodere O comunque può rompersi Noi normalmente facciamo Tutta questa serie di test preliminari Costruiamo una scocca Una dummy Noi lo chiamiamo dummy scocca Che non ha tutti i componenti Ma questo lo fanno un po' tutte le squadre O comunque parzialmente le zone della scocca Dove vengono applicati poi i carichi Facciamo questi carichi E prendiamo le misure Le misure vuol dire che Prima andiamo a carico Poi andiamo a rottura Andando a rottura si capisce Quanto sopra o quanto sotto Siamo dal target Da lì gli ingegneri studiano E dicono ok Siamo troppo robusti Allora tolgono peso Perché peso in Formula 1 È assoluta performance Paga sempre E di conseguenza Noi facciamo tutto questo Tutto questo lavoro molto intenso Fino che arriviamo ad avere l'ottimo E portiamo la macchina in omologazione Come noi Bisogna fare il booking alla federazione Come noi le altre squadre E noi avremo l'omologazione della macchina Per l'epifania Sempre sotto le feste Noi lavoriamo più di altro Per il muso La stessa cosa Perché anche le strutture Che impattano come il muso E il rear crash Quel tubo che c'è dietro Subiscono le stesse caratteristiche Anche lì vengono fatti Praticamente dei test preliminari Solo con i monconi E poi alla fine si fa il definitivo Si chiama il delegato Si va a Milano Con il delegato presente E si fanno i lanci Il lancio di crash È costituito da un binario Di circa una trentina di metri 25 metri Con degli elastici Col carrello Perché sia la scocca Sia il musetto Viene praticamente applicata La massa totale Della macchina Pieno carico Con pilota L'anno prossimo La massa è passata Da quest'anno Che era 780 L'anno prossimo Sarà 900 kg Ed hanno aumentato Anche 7 metri al secondo La velocità Che ci porta A rasentare I 60-70 km A zero contro un muro Ovviamente Si viene e tira Questo carrello all'indietro Si mettono in tiro Gli elastici Perché è l'unico modo Per dare la velocità Si fanno 2-3 lanci preliminari Per tarare Tutto il sistema Poi viene lanciato C'è un trigger davanti Che determina la telemetria E poi da lì Si tirano fuori I dati Con gli accelerometri Perché ad esempio Il muso È sottoposto A delle curve Ben precise Di decelerazione Non è che deve tenere Il colpo E basta Deve tenere il colpo Però c'è un grafico Ben preciso Determinato dalla federazione Dove Nella prima fase Di assorbimento Non si può mai Nen quasi tutta la fase Di assorbimento Non si può mai Superare i 20 G Di decelerazione Questo Per salvare Ovviamente Il pilota Anche se una persona Come è successo A Max A Silveston Ha visto quasi 50 Più di 50 G Di decelerazione Però la federazione Vuole che il cono Assorba In quei termini C'è qualche delibera Per qualche millisecondo Che si può passare Fuori dal grafico Però mediamente C'è un residuo minimo Che deve esserci Del muso E ci sono un sacco Di altre regole Che Per farvi capire La Formula 1 Come funziona Ma penso anche Come i rally Depositato Che è una cosa pubblica Nel sito Della federazione Ci sono i regolamenti C'è regolamenti Tecnico Il regolamento sportivo E attualmente Per questo budget cap C'è anche Il regolamento finanziario Il finance Per farvela breve Vi dico Che il regolamento sportivo Che il regolamento sportivo Si occupa Di quelle che sono Le date Gli eventi Cosa bisogna fare Gli sponsor Tutto quant'altro Le livree Tutto il resto È di circa 85-90 pagine Il regolamento tecnico È di 170 pagine Starci dietro Diciamo che Abbiamo persone Che fanno solo quello Solo per studiare Il regolamento Tecnico Anche per trovare Nelle pieghe Del regolamento Qualsiasi cosa Che possa portare Un vantaggio Cercherò di essere breve Ma non è così semplice Oltre a quello Che faccio A livello di Omologazione Telaio C'è Tutto quello Che sono Le validazioni Dei pezzi Che facciamo noi Internamente Facciamo un'ala Facciamo una sospensione Qualsiasi componente Della macchina Che è strutturale O che è Sottoposto A Delle forze O dello stress Noi Il mio reparto Lo deve validare Passa da me E lo devo validare Dico ok Il pezzo va bene Questo può andare in macchina Questo è nello standard Produttivo Dei pezzi nuovi Poi Ogni gran premio Ci si dà Qualsiasi particolare Della macchina A un chilometraggio E dopo Stabilito il chilometraggio Che in parte Lo decidiamo anche noi Secondo I vari test Di WP Di Endurance Test Che facciamo Con dei banchi dinamici Stabiliamo Quanto quel pezzo Può fare Ogni circa 1500 chilometri Prendo a campione Le sospensioni Tornano in azienda Vengono scarenate Noi rifacciamo Il proof test Quello che si chiama Proof test E poi Fanno le NDT I controlli strutturali E tornano in pista Questa è la routine Normale Ogni gran premio Torna a casa Un tot di materiale Ali Viene revisionato Viene revisionato tutto E noi mettiamo a disposizione In questo caso La gente della pista È il nostro cliente Noi forniamo Materiali a loro Questo è Poi ce ne sarebbero Mille altre cose Perché Facciamo anche indagine Sui materiali Provini Qualsiasi problema Ci sia sulla macchina Noi indaghiamo internamente E il mio laboratorio è Perché non ha funzionato Il Cric Come possiamo fare Per fare una cosa fatta meglio E quella è la zona Che mi piace di più Perché la pista Diciamo Non voglio dire Che mi aveva un po' stufato Perché se fai delle gare Come domenica Non può stufarti Però Però diciamo Che a livello professionale Di lavoro Vero e proprio È molto più interessante È un continuo sviluppo Sì esatto È molto più interessante Bene Allora In attesa Appunto di domande Da farsi Da parte dei nostri Interlocutori Che ci stanno guardando Il telefono è questo 389 59 70 243 Cedo la palla alla regia E dopo togliamo Continui patroli Gotria di Albaretto Benzina Metano Lavaggio Aperto tutti i giorni Un pienone di metano Garanzia di aria pulita E tanti chilometri in più Costruire è importante Scegliere il materiale giusto È sempre più importante Ecco perché Scegliere il centro edile Dove trovi tutto per l'edilizia In via Pieve 4 bis A Borgo Valditaro È il massimo 0525 92 12 18 Inoltre troverai Cemento Mattoni Pitture Pallets Legnami E comunque Tutto per l'edilizia Centro edile A Borgo Taro Via Pieve 4 bis Bottega del pane Di Binacchi Sandro e Stefania Il mangiare sano Comincia proprio dal pane Parti dalla bottega del pane Con le sue proposte Di diverse qualità di pane Torte salate e non E alta specialità Naturalmente In Viale della Libertà E in Viale Nazionale A Borgo Valditaro Combeck Costruzione meccanica Da 35 anni A Borgo Taro In via Primo Maggio Con telefono 0525 97 318 Combeck Macchine per la pasta A livello mondiale 35 dipendenti Combeck Costruzioni meccaniche Di diversa tipologia Combeck Un'azienda Borgotarese A livello mondiale Borgotel Il negozio amico Della telefonia Wind Team Vodafone Grandi occasioni Nuova opzione Telefono incluso Wind Puoi avere I nuovi smartphone Con un piccolo Contributo mensile Inoltre Borgotel Ha il sistema Che trasferisce E salva i dati Sul tuo smartphone O tablet Interessante no? Per saperne di più Vieni a trovarci A Borgotel Via Nazionale 2 A Borgo Valditaro Savani Paolo Concessionario Sivam Esclusivo per la zona Di Parma Specializzato in prodotti Per l'agricoltura Ampia gamma Di lati in polvere Per lo svezzamento Dei vostri vitelli Mangimi di alta qualità Per le vacche da latte Integratori Vitaminici Minerali Tecnologicamente avanzati Per il vostro Allevamento Le migliori varietà Di erba medica Per le vostre Semine primaverili E sementi Di frumento E orzo Per le vostre Semine autunali Ampia gamma Di lettiere Per cavalli E la loro alimentazione Autocarroceria Spidicar Via Primo Brindani 3 A Borgotel Affida alla grande esperienza Della carroceria Spidicar La tua auto Fulgone Autocar O camion Per noi Dare l'antico splendore Al tuo mezzo Di trasporto È un vero e proprio piacere Grande novità Servizio sanificazione Auto Con ozono E altri prodotti specifici Servizio Altamente professionale Ed ecologico In 20 minuti Ti libera Velocemente Da virus Batteri E cattivi odori Spidicar Soccorso stradale 24 su 24 Spidicar È convenzionata Con le grandi compagnie assicurative Allora vi diciamo Tutto meglio di prima Telefono 0525 820113 Spidicar Autocarrozzeria Borgo Taro Veloci e professionale Centro legno Centro legno di Squerica All'alberto Via De Gasperi 5 A Borgo Val di Taro Telefono 0525 920068 Pellets di primissima qualità Bio pellets Produzione astriaca Certificato a 1 Prezzo promozionale Per tutto il mese Di dicembre 5 euro Al sacco Di chilogrammi 15 Il vero grande Professionista del legno Squerica All'alberto A Borgo Val di Taro Centro legno Qualità Prezzo Professionalità Sono alcune delle qualità Del negozio di elettrodomestici DM Di Fortunati Bruno E Davide Mariani A Borgo Val di Taro Un mese pieno di occasioni Veniteci dunque a trovare E capirete perché Elettrodomestici DM Vi augura Buone feste DM Elettrodomestici Largo Roma 3 A Borgo Val di Taro Insuperabile E allora Torniamo a noi Torniamo alle domande Da fare Ce n'è subito una Poi ti giro Quelle che mi hanno detto Nei bar Che sono talmente tante Che dovremo stare qui Sino a domani mattina Questo L'amico Stefano Dice Ma nella vittoria Della Red Bull Caro Corrado C'è un pizzico Di vittoria Anche vostra In questo caso Una parola grossa Però ovviamente Noi facciamo La nostra parte E nel nostro DNA Crescere i piloti Ferstappen è partito Da noi Come tanti altri Come è stato Vettel Come Ricciardo Sainz Mille altri Diciamo che A livello A livello Non lo so Come ti potrei dire A livello di empatia A livello di simpatia A livello di supporto Senza dubbio La famiglia è una E il proprietario è uno A livello tecnico No Decisamente no Noi abbiamo Una collaborazione Forse Diciamo Succede il contrario Perché noi Prendendo Avendo retrotreno Red Bull Nella nostra macchina Indubbiamente Abbiamo Un aiuto Da parte loro Che questo si ferma Soltanto Sia ben chiaro Si ferma Al fatto che noi Prendiamo materiale Loro E abbiamo Delle Noi Non possiamo Fare sharing Assoluto Di dati Con loro Di nessun genere Tant'è che Noi abbiamo fatto Un test Per loro In azienda In particolare Nel mio Nel mio laboratorio Perché avevano Un problema Sul cambio Ma abbiamo dovuto Ovviamente Blindare i computer Dove noi Non avevamo Assolutamente La possibilità Di avere Avetevano loro O non voi Si perché Il regolamento Lo impone I server Sono controllati Allora abbiamo dovuto Staccare Abbiamo anche Un discreto Un discreto Lavoro Praticamente Separare Diciamo Il cervello Che comanda il banco Dove noi Noi utilizzavamo Il banco Ma non avevamo Nessun tipo Di acquisizione Loro ci dicevano Cosa volevano fare Noi lo facevamo Perché abbiamo Un tipo di banco Che è un banco Dinamico Notevole Che loro Non hanno Quel tipo di banco E volevano vedere Dei dati Però no Noi Noi diciamo Che sicuramente Nel merito Della loro vittoria Più che non sia Supporto psicologico Diciamo No Decisamente Decisamente No A nostro malgrado Però noi Siamo lì Che guardiamo E cerchiamo Noi festeggiamo I nostri Di podio Quando vi facciamo Adesso arriviamo Allora SMS 389 59 70 243 Io ringrazio Ancora L'amico Walter Biazzotti Perché ultimamente Mi veste Per cui La famosa Comeback Grande appassionato Non solo di calcio Perché è lo grande Sponso della Valtarese Della Comeback Ma anche Di automobilismo E proprio oggi Prendendo un caffè Con Walter Parlavamo Appunto Del grande Grande scontro Dieri Naturalmente Io Il mio tifo Si ferma E tu lo sai A Ayrton Senna E così Non posso farti nulla Però naturalmente Ieri Ho notato Che qualcuno Ha perso Qualcuno Ha vinto Corrado Chi ha vinto Realmente Ieri A parte Il campionato Del mondo Anche le strategie Quanta Penso che Ieri Al di là Ieri C'erano Senza dubbio Due fenomeni In pista Con Due squadre Fortissime Che ha vinto Sicuramente È stato lo spettacolo Ma lo spettacolo Ha vinto già Da qualche Gran premio A questa parte Diciamo da quasi Tutto l'anno Perché prima Avanti uno Poi avanti l'altro Poi uno sembrava Lui sembrava Un po' distratto L'altro è andato Poi c'è stato Questo ritorno Pesantissimo Della Mercedes Per riprendersi Il titolo Ne hanno fatto Tanto Finché sono arrivato All'ultima A giocarsela All'ultimo Io Ovviamente Non Non voglio essere Di parte Credo che ieri A livello Di piloti Di piloti Lo meritavano Entrambe Senza ombre di dubbio Perché al di là che Io sia di famiglia Red Bull E lavoro per Red Bull Dal 1995 Ieri In dubbio Diciamo che Le capacità Di lui Sono Non sono certo Io a dirlo Secondo me Ieri Chi ha Che se l'è giocata Un po' meno bene Non voglio dire male Perché in quelle situazioni Nessuno È perfetto Ma che se l'ha giocata Un po' meno bene È stata È stata la squadra È stata la Mercedes È anche Abbastanza Ovvio Perché chi insegue Ha sempre la carta migliore In situazioni Come sono successe ieri Diciamo che ha una rosa Di possibilità Per confondere le acque È molto più varia Molto più vasta Chi insegue E Secondo me Come abbiamo già detto Anche prima La La Mercedes Come è già successa La gara scorsa Con quel pit stop Forse troppo anticipato In visione Della probabile rossa Per l'impatto Alle barriere Diciamo che Non si sono coperti Abbastanza Perché ormai Sapevano di avere Il titolo in tasca E si sono Secondo A mio avviso Sempre parere personale Si sono un po' Distratti Perché se ieri Chiamando Chiamando safety car Loro fossero entrati A cambiare le gomme Senza avere la paura Che o come si sa Perché Verstappen ha sempre fatto Opposite Strategy Di Lewis A quel punto Nessuno Poteva già Immaginare Che avrebbero Finito la gara In safety car Però il rischio A quel punto La palla sarebbe passata A Red Bull Decidere cosa fare Mentre invece Loro Andando dritti Al primo pistopo Hanno lasciato La scelta Per incasinare Tutto A Red Bull Devo dire che In questo Red Bull Pur non avendo Nessun'altra chance Perché poi Loro Quando sei lì Ti giochi tutto Ed è l'arma Proprio di chi insegue Dice O la va o la spacca Io Entro e metto le rosse Ci provo E questo Alla fine Ha pagato Questa è La mia opinione Bene Poi Te ne leggo un altro Poi andiamo Con Gasly E Sunoda Perché giustamente Dobbiamo parlare Anche di loro Visto che sei qui Per Alfa Tauri E questa Una domanda Molto semplice Ma che magari Condivisa da tanti Ecco Fosse Accaduta A te Questa storia Nel senso Che tu Sei al posto Di Toto Wolf E di Christian Horner Avresti fatto Completamente diverso Per esempio A richiamo All'urlo Di Hamilton Allora Cosa faccio All'inizio Gli do la posizione Eccetera Eccetera Insomma Tu come la vedi Questa cosa E' un po' Strana La situazione No? Ma io Mi ci sono trovato In queste situazioni Perché in categorie Minori Ho sempre fatto Adesso Non è che voglia Però ho sempre fatto Lavoro di Toto Wolf Anche perché Le squadre sono più piccole Si fa un po' di tutto Io ero Quando ero in Formula 3000 Che allora Il mio capo di allora Che come tanti sanno Ho avuto Per quattro anni In Austria Era proprio Helmut Marco Ho lavorato A stretto contatto Con lui E io ero Il suo team manager E il suo direttore tecnico Della squadra E sì che A volte capita Di trovarsi In queste situazioni Diciamo che Non è Non è Non è mai Semplice Normalmente Per il contatto In curva Subito Quando si sono trovati Pronti via Si aspetta sempre Un'indicazione Della federazione Ma raramente Uno che passa davanti Cede la posizione Così a cuor leggero Anche perché Le cose in gioco Erano abbastanza grandi Tant'è che se lui Come ha fatto Max L'ultima gara Che non era necessario L'ultima volta Che lui ha dato strada A Hamilton Non era così necessario Però Non cedono la posizione Se non gli viene data Un'indicazione chiara Se la federazione Non entra in radio Con i team manager E avverte O aprono l'investigazione Se aprono l'investigazione È meglio Ricorrere Al ripari E dare una posizione In un momento Cui conviene Sappiamo bene Cosa è successo L'ultima La penultima gara Diciamo Che lì c'è stato Un po' di Confusione Sotto quel profilo Però No Assolutamente Lui Quello che ha sbagliato Forse ha aperto troppo E l'ha fatta un po' troppo Palese Avrebbe dovuto tagliarla Un po' meno Invece lui ha preso Un reale vantaggio Che Andava oltre A quello che poteva essere La spinta fuori di Max Diciamo che se lui Rimaneva in traiettoria laterale Non guadagnava Un secondo e otto Su Max Dopo la chicane Avrebbe potuto Pretendere di più La posizione Visto che Lui ha guadagnato Così tanto A quel punto L'investigazione Si è spenta Per quello Perché lui aveva già preso Tutto il vantaggio Ecco Questa è una spiegazione Tecnica importante Cioè Il fatto che loro Si lamentassero Che è stato Max Si è messa spingerlo fuori Che è stata la diatriba Che è venuta fuori Nelle ultime battute Tra Toto E la federazione Che gli diceva Ma allora La prima Lì Lui sinceramente Gli ha detto Lui aveva già Aveva già preso Il suo vantaggio Sono cose Però tornando Diciamo Alla domanda Se io avessi dato La posizione A Max Dopo Quel fatto lì No Se non si apre L'investigazione No Bisogna Come si dice In guerra in amore Vale tutto lì Quando Lì bisogna prendere Tutto quello che c'è Non si è lì Certo per fare Per fare Tra virgolette Bella figura O per fare L'uomo d'onore Lì va il regolamento Se qualcuno reputa Che qualcuno Ha fatto qualcosa Di sbagliato Si apre l'investigazione Con l'investigazione Cedi la posizione Appunto Le cose Io le vedo Molto chiare Sotto quel profilo L'ultima volta Che ci siamo visti Poi passiamo ad altri messaggi Da leggere 389 59 70 243 Se volete mandarne Ancora E questa Avevi parlato Che a tuo avviso Avevi un sentore Di fare Come Alfa Tauri E come tuoi piloti Un buon campionato Io credo che L'avete fatto E sicuramente Vi sarete già parlati Credo che tirando le somme Potete essere sicuramente soddisfatti No? Sì Diciamo che Speravamo in qualcosa di più Ad essere sinceri E ce l'avevamo quasi fatta Noi siamo sempre molto ambiziosi Siamo consapevoli Di non avere Perché fa parte del nostro DNA Avere sempre un pilota che cresce Come Yuki E sappiamo benissimo Che abbiamo fatto Quei 120 punti Adesso siamo saliti L'ultima gara Ecco perso il conto Però Fino all'ultima gara L'avevamo a 120 punti Dei quali 100 fatti da Gasly E 20 fatti da Yuki Ma non è perché lui non va Lui è un pilota A mio avviso Veloce Molto veloce Solo che adesso Non dà spazi la Formula 1 Perché si salta dentro Facendo due giornate di test Inizio anno Una volta i piloti Che passavano in Formula 1 Dal Formula 3000 O quello che ero Dal Formula O Alla F2 adesso Ci mettevano molto di più Lui arriva Arriva comunque E è arrivato in un momento Anche difficile La macchina di crescita Secondo me Quest'anno Avrebbe potuto fare Qualcosa di più Sì Avrebbe potuto fare Qualcosa di più La squadra per lui Anche Abbiamo buttato via qualcosa Come spesso capita Anche noi Siamo stati quinti Nel mondiale Fino a 3-4 gare Alla fine E poi purtroppo L'Alpin Che si è svegliata Di colpo Nelle ultime 5-6 gare Ha piazzato Un podio con Alonso Anche perché si sta parlando Di lottare Con un'altra squadra Con un Alpin Che comunque sia Sempre la Renault Renault Campione del mondo Ha tutto quello che si voglia Però sono sempre grandi squadre E tanto rispetto Ha un Alonso Che fa sempre la differenza Un Ocon Che è un pilota Anche lui Molto valido Ovvio che È vero che bisogna Piantare Mettere l'asticella Troppo alta Però Sempre più alta Però ogni tanto Bisogna anche saperla mettere Per non subire Troppa frustrazione Per non poterla raggiungere Diciamo che Siamo contenti Di quello che abbiamo fatto Il primo quarto Di stagione Eravamo lì Che ce la giocavamo Addirittura con Ferrari E con McLaren Dopo loro hanno preso Un po' più il volo Però indubbiamente Gasly È nono Nel mondiale È molto vicino All'ottavo Devo dire che È andato Tutto sommato Non abbiamo ancora fatto Perché non sono ancora Rientrati Perché domani E dopo domani Abbiamo ancora Due giornate di testa Da Abu Dhabi E poi faremo Il famoso rientro Col pranzo di Natale Tutti insieme È reso conto E così via È reso conto Sì Diciamo che Siamo abbastanza soddisfatti Per un bel periodo Abbiamo sognato Qualcosa di più Però Ci rifaremo L'anno prossimo Bene Noi ci rifacciamo subito Gian Dai Ditta camisa Macchine agricole Azienda leader nel mondo Macchine agricole Per vigneti E frutteti Di alta montagna Macchine per giantinaggio Di altissima qualità La ditta camisa Macchine agricole La trovi a Isola di Compiano Con telefono 0525 825 5117 Oppure 0525 825 5145 Immobiliare Valtaro Come investire bene I vostri risparmi La casa È il bene più importante Per gli italiani Immobiliare Valtaro La trovi in via Cesare Battisti 4 A Borgo Valditaro Telefono 0525 97 447 ZM Infissi Installazione di porte Finestre e persiane Con il massimo Della professionalità ZM Infissi Di Zucconi Massimo Con Fistral I numeri 1 Del settore ZM Infissi Se lo trovi a Borgotaro In piazza 11 febbraio Produzioni in via Pieve A Borgo Valditaro Showroom a Bardi In via Roma 15 Telefono 0525 96627 Cellulare 338 9676 980 Masco Ristorante Pizzeria In Largo Roma A Borgotaro Vi aspetta Nel suo Ristorante Pizzeria Per farvi Degustare E assaporare Le pizze La sua cucina Con prodotti Di altissima qualità Fatevi tentare Venite da noi Provate Venite a trovarci Prenotando Al 0525 96593 Masco Più masco Che mai Un nodo al pettine Un nodo al pettine Uomo Donna Bambino Vi aspetta A Bedonia Parma In via Garibaldi Troverete Novità Colori Sempre in evoluzione Consulenza Gratuita Per ogni tipo Di capello E cute Esperienza Continui studi E aggiornamenti Vi daranno La possibilità Di esprimere Al meglio La bellezza Dei vostri capelli Un nodo al pettine Vi aspetta In via Garibaldi Bedonia Parma Finalmente Si ritorna A tavola Il ristorante Mano Viola Vi aspetta Con la sua Stripitosa Cucina casalinga Dove i grandi Protagonisti Sono i funghi Porcini Nostrani Tutto l'anno I tantissimi Piatti Cucinati A base Di cacciagione In tutte le versioni Dunque Ristorante Mano Viola La scelta giusta A Bergotto Di Berceto Per prenotare Telefono 0525 64 511 E buon appetito Si ritorna a tavola Birra Nettuno Solo per numeri uno Vai Primissima qualità Bio Pellets Produzione austriaca Certificato A1 Prezzo promozionale Per tutti i mesi Dicembre A 5 euro Al sacco Di chilogrammi 15 Il vero E unico Professionista Del legno A Borgo Val di Taro Centro legno Di Squerica L'Alberto Qualità Prezzo Professionalità Sono alcune Delle qualità Del negozio Di elettrodomestici Di M Di Fortunati Bruno E Davide Mariani A Borgo Val di Taro Un mese pieno Di grandi occasioni Veniteci dunque A trovare E capirete perché Elettrodomestici Di M Vi augura Buone feste Di M Elettrodomestici L'ho trovato In Largo Roma 3 A Borgo Val di Taro Torniamo a noi E torniamo a una domanda Che naturalmente Ieri guardandola Non tutto Perché dovevo presentare Uno spettacolo Non tutta la gara Sono riuscito a vederla Ma naturalmente A piccole parti E alla fine però Mi sono fatto un'idea Che Hamilton è da solo Le staffe non è da solo Perché 8 secondi Perse Regalati al suo compagno Bottas Non l'ha certamente fatto Beh diciamo che Ceco Ceco è un grandissimo pilota Ieri ha fatto il suo Ieri ha fatto C'è chi Diciamo Dava del maggior domo A Bottas Però ieri 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 ti stavi giocando Un mondiale Dovevi usare tutto 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 Quello che avevi Indubbiamente Come abbiamo già detto Si è svegliato Un po' tardi Io ho tanto rispetto Per Ceco Perché lo conosco Anche personalmente Una persona Gradevolissima Però Devo dire che Quest'anno Se devo fare Uno screen Di tutto l'anno Io non ho visto Le poll Che ha fatto Bottas Perché Perez Cioè Sicuramente In questa gara Senza ombra di dubbio Una parte del mondiale Ci ha messo del suo Ha fatto Ha fatto il lavoro Che deve fare E ha fatto il lavoro Che Anche se a molti Non piace Il lavoro del secondo Inevitabilmente O sei bravo abbastanza Per fare il primo O devi fare il buon secondo In Formula 1 Funziona così Se sei bravo abbastanza Fai il primo Come abbiamo appena accennato Vedi Ferrari Che si sono ritrovati Pensando di avere un primo Invece poi era il secondo Però A parte questo Secondo me Bottas ha fatto il suo Ha fatto vincere Il mondiale costruttore La Mercedes Cosa che Purtroppo Non è riuscita Perez Ieri È stata Un'eccezione Perché ha fatto Veramente Due giri Da paura Come sa fare Perché Ceco non è certo Uno di primo pelo Però Diciamo che Si doveva anche lui salvare Come ha tirato la scia In qualifica Lavoro Perfetto Che anche tirare la scia Non è una cosa così semplice E Lui ha fatto quello Che doveva fare Anche perché Con quello che è successo Quest'anno Secondo me E quello che ha fatto Il nostro Gasly Cosa che non è nemmeno In discussione al momento Però diciamo che Anche Red Bull Forse Potrebbe guardarci Un po' intorno Diciamo che ieri Ha salvato Capre Cavoli Ecco Diciamo così Con tutto rispetto Che comunque È un ottimo pilota Non è Però lui Lui sarebbe dovuto Diventare primo pilota All'epoca Cosa da tempo Cioè Parliamo di 5-6-7 anni fa Domanda che ti riguarda Direttamente Le qualità migliori Del tuo Gasly Perché i piloti Ne hanno tante qualità Ma io credo Che le qualità migliori Di Pierre Anche se Purtroppo Io non ho Il tatto Che avevo una volta Perché una volta Li ascoltavo tutti i giorni In radio E riuscivo a calibrarli Un po' meglio Però Non voglio dire Che sono quasi Uno spettatore Perché comunque Io leggo i report interni E so Tutte dichiarazioni E comunque Quello che è L'umore interno Senza dubbio Ha una grande costanza Ed è molto caparbio Cioè Non è uno che si butta giù Tanto facilmente Ha avuto Qualche piccolo vuoto Ma devo dire Che poi Ha una costanza Sul tempo Sul giro Quando la macchina Glielo permette Che è impressionante Ha fatto delle gare Che non si sono viste poco Dal punto di vista mediatico Perché era da solo Però Ha una costanza Sul giro Incredibile E comunque Regge la pressione In un modo Veramente Veramente Lodevole Vedi Vincere Monza Con Sainz Che gli stava Mordendo L'ala posteriore Vedi Fare un secondo In Brasile Con Hamilton Che ti sta Mordendo La fiancata E vinci Per un metro E prendi Il secondo Cioè Credo che sia Una delle Qualità Migliori Sue Qui c'è un saluto E un Complimento Generale Alla trasmissione All'interlocutore Che sei tu Di grandissimo livello Da parte Di Emanuele Greco Che è un Cantante Che fa Porta in giro Le cover Di Adriano Cianitano Da Parma E ci guarda sempre E Ti chiede una cosa Molto semplice Per te Cosa ma Perché la Ferrari Non vince All'Alfa Taurus Cos'interessa No Ci mancherebbe Diciamo che Io accetto sempre Accetto sempre Domani Intanto saluto Ringrazio Greco Io accetto sempre Domande riguardanti Perché Non c'è niente da fare Voglio dire La rossa La rossa è la rossa La rossa è la rossa Inevitabilmente Anzi Ci mancherebbe altro Ha fatto grande Questo mondo Diciamo che se avessi Io la risposta Probabilmente avrei Un appartamento A Maranello La risposta Non è così semplice Da dare Bella Bella Diciamo che La Ferrari Non riesce a vincere Perché Senza fare Polemiche Una squadra Spinge Lo sviluppo A livello Motoristico Telaistico Nell'arco degli anni E delle possibilità Di come interpreta In quell'anno I regolamenti L'anno prossimo Sarà un foglio bianco Per tutti E spinge Il suo sviluppo Su certi argomenti Diciamo che La Ferrari Si è trovata Ma anche altre squadre Non è capitato Solo la Ferrari Però la Ferrari Diciamo che Il collasso Più grosso Che ha avuto Che aveva fatto Uno sviluppo Molto forte Sul fronte motoristico Dove poi Anche i regolamenti Con contraddizioni Con zone grigie Con qualcosa Diciamo Gli è venuto È venuto meno Questo grande aiuto Da parte Del motore Perché che se ne dicano Il motore Fa comunque Una grandissima differenza Se è uno cavallo in più Si può permettere Di andare con ali Più cariche Consuma meno le gomme Il consumo Perché non solo L'efficienza I cavalli del motore Ma anche a livello Di efficienza Di consumare meno benzina Vuol dire partire Perché si deve Consumare 100 litri L'ora C'è il flussometro Vede tutto Ma se io riesco A fare il gran premio Con 90 kg Io giro tutta la gara Costantemente Con 10 kg in meno Ah certo E questo è Un'enormità Che penso che sia La vera chiave Di Mercedes Sempre a livello personale Oltre ad avere Una macchina Telaisticamente Molto Molto A posto Sempre molto Bilanciata Sempre Molto A posto E Diciamo che Poi Quando si perdono Cavalli Questa è una cosa Che abbiamo avuto Anche noi Nell'arco Tanti anni fa Quando poi Si perdono Cavalli Ricostruire La filosofia Sull'aerodinamica E pensare Di rivedere Tutte le certezze Che fino al giorno Prima erano lì E ripartire Da capo Ed è un esercizio Molto Molto Complicato Molto pesante Devo dire che Loro comunque Sono stati Capaci di reagire E piano piano Si stanno ricostruendo Non a caso Gli abbiamo prestato Il nostro Loran Mechier Che ha lavorato In Toro Rosso Per 15 anni No ma A parte quello Diciamo La gente C'è La gente Che sa lavorare C'è Niente di E che Purtroppo Regolamento Anno che viene E squadra che vince Un po' Nell'era ibrida Si sa L'iter Di cosa è successo Con la Mercedes Si sa che Il motore è stato Proposto Da Horace Brown Che allora Lavorava in Mercedes Adesso Non si parla Non voglio essere Né polemico Né complottista Assolutamente no Questa è la regola Normale Di quello che succede In questo ambiente E in altri ambienti Non bisogna Tre virgolette Essere troppo Critici Su questo punto Come Pensare al complotto E le gomme E possono fare Chi ama il motosport È al di sopra Di queste cose Totalmente Al di sopra Quello che viene fuori È che le idee Anche tecnologiche O tecniche All'interno Della Formula 1 Inevitabilmente Sono proposte Dalle squadre stesse È il TVG È il Technical Working Group Che determina Il regolamento tecnico Sì che non è che Se la possono prendere Più di tanto Con qualcun altro Sono loro stessi Che approvano Passo passo In tutte le Diciamo In tutti i meeting Che fanno Durante l'anno Di che direzione Prendere Sì che non è che Poi puoi dire Eh ma Io preferivo No Perché comunque Il Technical Working Group È quello che delibera E ne fanno parte Tutti i direttori tecnici Di tutte le squadre E la federazione Si impone Soltanto Sul fronte della sicurezza Sul fronte della sicurezza La federazione Si impone Dice Io voleva l'alo Ha fatto tanto Che ha immesso l'alo Perché l'alo È più sicuro Ma a livello di Facciamo la macchina Più lunga Più corta Il fondo tagliato La gomma più ampia E questo Questo è tutta roba Che si gestiscono Le varie squadre Ovvio La FI è presente Perché è lei Che presiede Il Technical Working Group Ma Si va alle votazioni E sono le squadre Che propongono Ma qua facciamo così Ma qua facciamo così C'è sempre Una discussione Molto intensa A livello tecnico Non è che di punto in bianco Si svegliano E dicono Domani fate la macchina così No La cosa è molto più profonda Molto più pensata Ovviamente Ovvio In quel momento All'epoca Dell'innesto Dell'ibrido Rose Brown Aveva fatto O ingegneri Perché a qualcuno Il lavoro sporco Tra virgolette Lo deve fare Di inventare O di approvare Una certa tipologia O certa tecnologia Sui motori Inevitabilmente Le notizie Che erano state Di come si doveva fare Un determinato motore Diciamo che poi Sono un po' filtrate Sicuramente Molto di più Dalla parte di Mercedes Che da altre parti Gli altri Sono rimasti Un po' indietro E questo è stato L'errore grosso Che fece la federazione Allora Che approvò Il fatto di Mettere i token Che poi i motoristi Negli anni seguenti Non riuscivano Nemmeno a fare sviluppo Avevano lo sviluppo blindato Altrimenti La situazione Che si è creata adesso Da qualche anno Dove poi hanno liberato Un po' più Lo sviluppo dei motori Come ha fatto Honda Arrivare A lottare Effettivamente Con Mercedes Si sarebbe Manifestata Sicuramente Qualche anno prima Bene Diamo un po' di consigli E poi torniamo Perché le domande Sono tante Continui petroli Gotria di Albaretto Benzina Metano Lavaggio Aperto tutti i giorni Un pienone di metano Garanzia di aria pulita E tanti chilometri In più Costruire è importante Scegliere il materiale giusto È sempre più importante Ecco perché Scegliere il centro edile Dove trovi tutto per l'edilizia In via Pieve 4 bis A Borgo Valditaro È il massimo 0525 92 12 18 Inoltre troverai Cemento Mattoni Pitture Pallets Legnami E comunque Tutto per l'edilizia Centro edile A Borgo Taro Via Pieve 4 bis Bottega del pane Di Binacchi Sandro e Stefania Il mangiare sano Comincia proprio dal pane Parti dalla bottega del pane Con le sue proposte Di diverse qualità di pane Torte salate e nonne E alta specialità Naturalmente In Viale della Libertà E in Viale Nazionale A Borgo Valditaro Conbeck Costruzione meccanica Da 35 anni A Borgo Taro In via Primo Maggio Con telefono 0525 973 1 8 Conbeck Macchine per la pasta A livello mondiale 35 dipendenti Conbeck Costruzioni meccaniche Di diversa tipologia Conbeck Un'azienda borgotarese A livello mondiale Borgotelli Negozio amico della telefonia Wind Team Vodafone Grandi occasioni Nuova opzione Telefono incluso Wind Puoi avere I nuovi smartphone Con un piccolo Contributo mensile Inoltre Borgotel Ha il sistema Che trasferisce E salva I dati Sul tuo smartphone O tablet Interessante no? Per saperne di più Vieni a trovarci A Borgotel Via Nazionale 2 A Borgo Valditaro Savani Paolo Concessionario Sivam Escusivo Per la zona Di Parma Specializzato In prodotti Per l'agricoltura Ampia gamma Di lati in polvere Per lo svezzamento Dei vostri vitelli Mangimi Di alta qualità Per le vacche Da latte Integratori Vitaminici Minerali Tecnologicamente avanzati Per il vostro Allevamento Le migliori Varietà Di erba Medica Per le vostre Semine Primaverili E sementi Di frumento E orzo Per le vostre Semine Autunali Ampia gamma Di lettiere Per cavalli E la loro Alimentazione Autocarroceria Spidicar Via Primo Brindani 3 A Borgotel Affida Alla grande Esperienza Della carroceria Spidicar La tua auto Fulgono Autocar O camion Per noi Dare L'antico Splendore Al tuo mezzo Di trasporto È un vero e proprio Piacere Grande Novità Servizio Sanificazione Auto Con ozono E altri prodotti Specifici Servizio Altamente Professionale Ed ecologico In 20 minuti Ti libera Velocemente Da virus Batteri E cattivi odori Spidicar Soccorso Stradale 24 su 24 Spidicar È convenzionata Con le grandi Compagnie Assicurative Allora Vi diciamo Tutto meglio Di prima Telefono 0525 820113 Spidicar Autocarrozzeria Borgotaro Veloci E professionali Centrolegno di Squerica D'Alberto Via De Gasperi 5 A Borgo Valditaro Telefono 0525 920068 Pellets di primissima qualità Bio Pellets Produzione Austriaca Certificata 1 Prezzo promozionale Prezzo promozionale Per il mese di dicembre A 5 euro Al sacco Di chilogrammi 15 Il vero Unico Professionista Del legno Squerica D'Alberto Centrolegno Borgo Valditaro Io mi scuso Già da questo momento Perché non riuscirò A leggerti Tutti i messaggi Perché sono tanti Comunque Fatelo ancora 389 59 70 243 Vi dico anche Che Vi facciamo gli auguri Di Natale E di Buon Anno Perché Le prossime due Trasmissioni Saranno repliche Molto importanti Perché in famiglia RTA C'è una clamorosa Novità Perché voi Sapete che abbiamo Un regista eccezionale Che sta per diventare Papà Ragazzi E allora Magari rischiamo Di fare la trasmissione Farla a metà Viene chiamata Al telefono Se ne va Ci pianta qui da soli Non possiamo Far questo rischio Paola Tietelo pure Te lo lasciamo Vabbè Scherziamo un po' In bocca al lupo Da parte di tutti noi Per l'amico Già lui Altra domanda Ecco qua Per te E poi passeremo A qualche novità Del nuovo regolamento Perché so che cambia Un po' tutto Dice Caro Giovanni Se riesci a fare Una puntata Tanto interessante Come questa Anche con il rally Ti porto A cena Vabbè Il rally Devi esserci comunque Tu È un complimento Indiretto a te No vabbè Io ringrazio Io sono molto Legato anche Ai ragazzi Che lavorano E che si danno Da fare Anche su quel fronte Io ho preso Un'altra strada Ho preso la strada Della pista E ho coltivato Quella mia passione Lì Però Indubbiamente Io stimo tantissimo Tutti i ragazzi Che conosco In primis Michele Tedaldi Giovanni Cappella Le Porazzi Ce ne sono Ce ne sarebbero Adesso io tutti Non me li ricordo Però sicuramente Loro fanno Un lavoro egregio Sia quando Sia quando È qua E sia come Ho seguito Recentemente Che sono stati Protagonisti Credo L'organizzazione Rally di Modena E hanno fatto Un lavoro egregio Come sanno Loro E portano sempre La bandiera Della Valtaro Sempre molto alta Come ci sono Presenze Anche Non voglio Diciamo Sulla mia categoria Di un Maurizio Reboli Anche lui Di Tarsogno Che ha fatto Ha fatto Tutto quello Che credo Tutto quello Che si potesse fare Nel mondo Del rally A livello Di meccanica Gestione delle macchine Setup Banchi prova E tra l'altro È nato Il mio stesso giorno Dieci anni prima È una curiosità Proprio E ci scambiamo Sempre Gli auguri Devo dire Che Sì Sono sempre Vado sempre Molto volentieri Li guardo sempre Molto volentieri Tutti i ragazzi Della Valle Quando c'era Federici Leonardi Tantissimi altri Mi perdono Quelli che non Ricordo i nomi Però sicuramente I ragazzi di Bedonia Ce ne sono Un'enormità Pantini Grazie Stefano Di aver fatto Questo Farci Entrare In questo Altro mondo Motoristico Allora Una cosa Eclatante Che cambia Nel prossimo Campionato del mondo 23 gare Prima di tutto Uno in più Il calendario È già stato È già uscito Sono 23 23 appuntamenti Con alcuni appuntamenti Molto molto pesanti Per chi lavora Credo che A volte mi dicono No ma perché non torni in pista E gli dicono No 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 grazie Perché Credo che ci sarà Obbligatoriamente Anche un bisogno di turnover Della gente Perché 23 gran premi Con due gare Una Una casa Due gare Una casa Poi Il calendario è Allucinante C'è un Imola Australia Miami 9 mesi fa il mondiale C'è una roba Ma al di là Dei nove mesi Che sono Forse un po' di più Perché da quando iniziamo Tra test e tutto Noi siamo impegnati Un po' di più Adesso andiamo a fine febbraio I ragazzi rientrano Il 19 Di dicembre Dunque Che fanno Domani e dopodomani Ancora i test Che diventa Veramente pesante Diciamo che Al di là Del calendario Che Ai fin di conti È solo una gara in più È veramente Il diciamo Parlando di quello di prima A livello sportivo Non così diverso Ma La vera grande differenza È a livello tecnico Diciamo Il motore rimane un ibrido Come adesso Le stesse specifiche identiche La massa Della Della vettura Sale Come ho detto prima Per l'omologazione Da 780 A 900 kg Con Un peso minimo Senza pilota Credo di 7,95 Adesso non vorrei dire Una stupidaggine So che vanno su Un chilo o due Ogni settimana C'è un aggiornamento Però è Diciamo L'aerodinamica L'aerodinamica È quella che la farà Da padrone A parte i carichi Che sono aumentati Più sicuri Tutto il resto Però diciamo che Aerodinamicamente È veramente Un'altra macchina Con un'altra Direi Filosofia Non vedremo più Se ancora ci capisco qualcosa Nelle macchine da corsa Non vedremo più Le macchine picchiate Come vanno adesso Con tanto pitch Diciamo molto Inclinati in avanti Perché l'aerodinamica Porterà ad avere Delle macchine Un po' più piatte È un simile Effetto Suolo A livello di fondo Il fondo Molto capiente Con il tunnel D'ingresso Il tunnel Di salita Il diffusore Posteriore Che parte Da molto In avanti Nella vettura In teoria Dovrebbe creare Un effetto Suolo Però il gradino Lo step Quello che è Reference plane Step plane Attualmente Di 50 mm È più ampio Sicché Non so se alla fine Riusciranno Veramente a creare Un effetto Suolo O sarà molto Complicato Credo che Chi interpreterà Bene Il regolamento Specialmente Nei primi Gran premi Vedremo delle differenze Abbastanza importanti Tra una macchina E l'altra Tra un team E l'altro Poi dopo Un po' tutti Ci si scopiazza Più o meno Si trova la strada Ma credo che Sarà un esercizio Abbastanza complicato L'Alfa Tauri Come è messa L'Alfa Tauri Penso che sia messa Come sono messe Tante altre Noi siamo Abbastanza Contenti Di quello Che si è trovato Attualmente Il progetto Va avanti Diciamo che Siamo A target Con Quelle che sono Le aerorelease Quelle che sono Gli studi Le macchine Avranno La grande differenza Non sarà solo Aerodinamicamente Ma monteremo I cerchi Da 18 pollici Questo porta Ad avere Anche un pneumatico Più alto Perché Diciamo che Dai 13 pollici Si è passate A 18 pollici La spalla Della gomma Non si poteva Tenere Cambiando solo Il cerchio Perché altrimenti La spalla Della gomma Sarebbe stata Troppo bassa E avrebbe causato Una delle rigidezze Troppo alte Per i telai Allora Ha aumentato Anche il diametro Esterno Della gomma Però Sul totale Diciamo che Siamo sui 30 mm Sul raggio Della ruota Più alto Anche le ruote Saranno molto Più importanti Avranno dei coperchi Esterni Che io Personalmente A me Non piacciono Molto Però Dei tappi Avranno Una Funny break Diciamo davanti Dove c'è La presa aria Avranno come Un lip Sopra la gomma Come una sorta Di parafango Potrebbero complicare Un po' Questa novità I P-stop Sicuramente La macchina Sarà più lenta Quanto meno All'inizio Poi nell'arco Degli anni Sicuramente I team Troveranno Il modo Per farla andare Sempre più forte Come sempre fanno Senza dubbio La macchina Sarà Più ingombrante Le gomme Sono più ingombranti Sì che credo Che il P-stop Per la prima parte Di campionato Sicuramente Dai due secondi I tempi migliori Attuali Credo che Passeremo A dei super tempi Forse Se riusciranno I ragazzi A scendere sotto I tre secondi Saranno bravi Per cui Qualche complicanza Però sicuramente Per ripetere I tempi Che fanno attualmente La vedo Abbastanza complicata Il muso Molto ingombrante Grande L'ala anteriore Che è a intersezione Sul muso anteriore Non ci saranno più I piloni del muso Ma sarà Entrerà nel muso L'ala anteriore Il muso Molto più lungo Quasi 20 cm Più lungo Per reggere l'impatto E supportare l'impatto In caso di incidente Con la massa aumentata Devo dire che Sì Tutto A livello di pit stop Le cose Sicuramente Non si semplificano Visto la tua esperienza Quale Diciamo Tre gran premi Che toglieresti Dal calendario Per inserirne altre Beh questa È interessante Però Beh devo dire che Avrei tolto Abu Dhabi Però con le modifiche Che hanno fatto Con le due curve Che hanno messo Ha salvato Ha salvato Veramente la pista Perché prima Abu Dhabi Era veramente Di un noioso Fuori dal mondo Sono un po' combattuto Per Monte Carlo Perché è una cosa storica Però è un bellissimo evento E noi facciamo Tutto sommato Facciamo anche spettacolo Come non si può andare A Monte Carlo E poi io quando gioco Un playstation Robe varie Monte Carlo Mi piace sempre tanto Non Bacu Non mi fa impazzire Bacu Sicuramente Non mi fa impazzire E un Le Castellè Non mi fa impazzire Troppo per niente Le Castellè Non mi piace Le Castellè Molta critica C'è Le Castellè Le Castellè È sempre stata Una pista da testa E dovrebbe rimanere Una pista da testa Questo rimane sempre Ovviamente Rimetterei un Kajalami Sud Africa Qual è il gran premio Che l'Alfa Tauri Terebbe in modo Direi maggiore Portare un suo pilota La vittoria Dei 23 Del prossimo Noi abbiamo Noi casualmente Non so Si vede che il signore Ci guarda dall'alto O chiunque sia Abbiamo vinto Nel 2008 Con Vettel Nella gara di casa A Monza Abbiamo ripetuto Con Gasly A Monza Di nuovo Siamo andati A pelo A Imola Perché partivamo Io credo Che quello Che ci può mancare È giusto Imola È lì Come dicono Gli inglesi Cross the street Perché siamo Da Tafaenza Imola Veramente Si va a piedi Tranquillamente Indubbiamente Se vincessimo Anche Imola Sarebbe Il top Credo che sia La pista Posso essere Anche per Anima 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 Può essere Anche Red Bull Ring Ma credo Che sarebbe Molto più sentita Per Alfa Tau Rimola Corrado Dice questo Di tutte Le emozioni Che hai provato Di tutte Le persone Che hai incontrato Sulla tua strada Quale Più di ogni Altra Ha lasciato Il segno Parliamo Nell'ambito Lavorativo Lavorativo Non è Neanche così Semplice Da dire Senza dubbio A livello Professionale Sul fronte Manageriale E anche Personale Perché devo dire Che alla fine Sembra un orso Ma non è Indubbiamente Il dottor Marco Dottor Marco Io sono stato Il suo team principal E team manager Della sua squadra In 3000 Quando ancora Il progetto Formula 1 Non era in essere Ed eravamo I pionieri Di questo programma Della Red Bull Che voleva crescere E fare qualcosa Nel mondo Dell'automobilismo Ma non aveva Ancora ben capito Dove incominciare Sponsorizzava Già alcune squadre Però Diciamo che noi Siamo stati i pionieri Siamo stati quelli Che gli hanno fatto Venire la voglia E allora La squadra La gestiva Era di proprietà Del Helmut Di Helmut Marco Io gestivo la squadra Poi ha deciso Proprio quando è partito Il progetto Per non avere Conflitto di interessi Non voleva che la gente Pensasse che ci fosse Un conflitto di interesse Ha chiuso la squadra Di Formula 3000 Ed è partito Col programma Formula 1 Io avrei dovuto Andare in Inghilterra Ma io malgrado Purtroppo con l'Inghilterra Non vado molto d'accordo E non sono andato Ho fatto le mie strade Poi ci siamo rincontrati E' stato lui Che ha voluto Che io andassi In Toro Rosso Conoscevo già Franz Tosta Da tanti anni Prima Però lui mi ha sempre Consigliato E voleva che andassi lì Devo dire che Sotto il profilo Mi ha insegnato Tantissime cose Lui a livello Il distacco Che bisogna avere A rimanere Diciamo Professionali In alcune condizioni La professionalità La puntualità Tantissime cose Devo dire E poi Diciamo Sul lato Diciamo Questo sul lato Più manageriale Invece Sul lato Tecnico E gestionale Devo dire Che Non so Se sono riuscito A imparare qualcosa Né di uno Né dell'altro Però senza dubbio L'anno I due anni passati Con L'ingegnere Ascanelli Giorgio Lì senza dubbio Diciamo Questo nel mondo Racing Nel mondo Come Visione Come visione Lontana E come Anche punto Di riferimento Inevitabile Non posso Che metterci Gian Paolo Dallara Complimenti Tutti i nomi Eclatanti Diamo qualche consiglio Poi passeremo Ai saluti Agli auguri E magari A qualcosa Che non ti ho chiesto E alla quale Comunque Tu vuoi dare una risposta Vai già Ditta camisa Macchine agricole Azienda leader Nel mondo Macchine agricole Per vigneti E frutteti Di alta montagna Macchine per Giandinaggio Di altissima qualità La ditta camisa Macchine agricole La trovi A Isola di Compiano Con telefono 0525 825 5117 Oppure 0525 825 5145 Immobiliare Valtaro Come investire bene I vostri risparmi La casa È il bene Più importante Per gli italiani Immobiliare Valtaro La trovi In via Cesare Battisti 4 A Borgo Valditaro Telefono 0525 97447 ZM Infissi ZM Infissi 980 Masco Masco Ristorante Pizzeria In Largo Roma A Borgotaro Vi aspetta Nel suo Ristorante Pizzeria Per farvi Degustare E assaporare Le pizze La sua cucina Con prodotti Di altissima qualità Fatevi tentare Venite da noi Provate Venite a trovarci Prenotando 0525 96593 Masco Più masco Che mai Un nodo al pettine Uomo Donna Bambino Vi aspetta A Bedonia Parma In via Garibaldi Troverete Novità Colori Sempre in evoluzione Consulenza gratuita Per ogni tipo Di capello E cute Esperienza Continui studi E aggiornamenti Vi daranno La possibilità Di esprimere Al meglio La bellezza Dei vostri capelli Un nodo al pettine Vi aspetta In via Garibaldi Bedonia Parma Finalmente Si ritorna A tavola Il ristorante Mano Viola Vi aspetta Con la sua Stripitosa Cucina casalinga Dove i grandi Protagonisti Sono i funghi Porcini Nostrani Tutto l'anno I tantissimi Piatti cucinati A base Di cacciagione In tutte le versioni Dunque Ristorante Mano Viola La scelta giusta A Bergotto Di Berceto Per prenotare Telefono 0525 05264 511 E buon appetito Si ritorna a tavola I n stained Winni 1 E buon appetito E buon appetito birra nettuno solo per numeri 1 ok siamo ormai ai saluti naturalmente ai prossimi appuntamenti che ormai saranno con il prossimo anno intanto i saluti e gli auguri li abbiamo già fatti e spero che sia davvero un fin anno scoppiettante pieno di emozioni di salute e quant'altro che è la cosa più bella che ci sia Punto Sport è al settimo anno è stato con voi molto volentieri anche quest'anno e direi che abbiamo vissuto alcune tappe davvero interessantissime viste le restrizioni che ci sono Corrado prima dei saluti c'è qualcosa che magari avremmo voluto chiederti e non ti abbiamo chiesto per colpa nostra però è qualcosa di importante allora tu ce lo vuoi dire prima dei saluti no no io aspetto la prossima trasmissione così almeno ci rivedremo un'altra volta magari magari nell'approssimarsi dei testi invernali nell'inizio di stagione magari per parlare delle macchine nuove e mi raccomando seguite la Formula 1 che sì è bello rimanere attaccato ai ricordi delle grandi cose delle grandi battaglie però bisogna anche sapere innamorarsi delle cose nuove e credo che quest'anno la Formula 1 sia riuscita a tornare un po' sui suoi passi anche a livello di spettacolo finalmente non è così noiosa ci sono piste interessanti per esempio prendo il mio caso ci si innamora così tanto di un innamora sportivamente ecco di un campione come per me per tanti rimane Ayrton Senna no ma quello su questo discorso non ci sono dubbi però sull'evento e su quello che è al momento è un po' come sui posti di lavoro quando cambiano le cose non ci si rende conto che si va verso un miglioramento e la frase tipica che viene detta è si stava meglio quando si stava peggio ma non è sempre vero perché comunque inevitabilmente le cose io che le vivo da dentro da tanti anni io le guardo con un altro occhio purtroppo come dicevamo prima la Formula 1 è ancora un po' troppo blindata però per chi ha la vera passione per chi si appassiona non solo di chi è là davanti che gioca per la prima posizione però c'è tutto il retro se ci si appassiona anche a tutti gli altri diciamo componenti o comunque attori o quello che è della Formula 1 secondo me è ancora tanto tanto interessante ancora ad oggi ovvio a livello di battaglia non possiamo competere con una moto GP o con quello che è però anche se credo che col passaggio di Valentino Valentino passa o non passa? no io credo che dalle moto che ha perso perdendo Valentino anche le moto secondo me avranno un discreto calo tu dici di interesse sì diciamo che i motari come li chiamo io anche loro sono i tifosi motociclisti sono molto forti sono molto agguerriti devo dire forse molto di più di quelli perché porta un po' di più a essere vicini perché la moto, io mi compro la moto e faccio presto a emulare la Formula 1 è un po' più complessa molto però devo dire che speriamo di continuare su questo punto spero di vederci presto spero di creare sempre interesse e avere sempre qualche risposta a chi ha domande io sono sempre a vostra disposizione vengo molto volentieri ringrazio tutti e faccio gli auguri a tutti ringraziamo naturalmente RTA e il suo presidente Claudio Vertani che ti pogge naturalmente gli auguri di buona festa e noi ci risentiamo spero presto la replica domani intorno alle ore 15 ricordo su Youtube la puoi condividere tranquillamente e rivederti come quando vuoi da notte fonda e ricordo anche protagonisti giovedì sera una trasmissione decisamente azzeccata l'unica cosa che volevo dire prima degli auguri ancora rinnovarvi gli auguri è che è stata una domenica senza calcio ed è stata una domenica triste per il basket valtarese perché purtroppo hanno perso le 14 anni le 15 anni, la roba i profumi e anche la promozione maschile per cui è stata veramente una domenica insomma da dimenticare in bocca al lupo per il prossimo anno a tutto il basket e il calcio e allo sport in generale della nostra vallata gli auguri? Vai! Auguri a tutti buon Natale, buone feste state sani e in forma speriamo di vederci in giro questo vuol dire che andrà tutto bene già mi raccomando buone feste buone feste buone feste buone feste buone feste